ho iniziato proprio la prima esperienza in ambito cinematografico ho fatto un cortometraggio con vincenzo al fieri il lato scuro era un thriller e avevo una parte veramente veramente tosta perché era appunto una ragazzina che veniva rapita dal protagonista che era uno psicopatico e veniva rinchiusa in questa in questa fabbrica e subiva appunto delle violenze psicologiche e poi alla fine anche appunto viene praticamente adesso non si tanto posso dirlo perché è uscita da anni viene appunto bruciata con l'acido quindi erano scene veramente forti e come prima esperienza primo giorno sul set ti ritrovi con tre ore di trucco per fare tutta l'ustione sulla faccia è stata fortissima ma sarà veramente informativa ho capito veramente come funzionavano ovvio fino i set e tutto